Qui è Hilary di Aqua Fortis Astrology e queste sono le previsioni astrologiche generali per la quarta settimana di agosto che fa dal 19 al 25 di agosto 2019. Cominciamo con il 21 di agosto 2019 quando abbiamo due eventi che succedono uno dopo l'altro. La prima è Venere che segue Marte nella Casa della Vergine, il 21 di agosto 2019 alle 11.06 ore locali. Venere non è felice nella Casa della Vergine che ha come padrone Mercurio. La Vergine è quell'energia di discernimento di quello che funziona e non funziona, di sminuzzare realtà in piccoli frammenti per farli funzionare meglio. Venere cerca l'armonia e la bellezza nella vita, smussa gli angoli così tutti possono collaborare insieme. Venere trovandosi nella Casa della Vergine è costretta a cercare l'armonia e la bellezza nell'arte di frammentare le cose per capire dove sono i difetti e correggerli. Insomma immaginate Venere che sta facendo l'amore e improvvisamente si perde a scracciare i puntini neri nella faccia o alla schiena del partner. Insomma non è il massimo della goduria vero? Venere in Vergine vuole fare le cose perfette ma nella vita nulla è perfetto. Per cui Venere in Vergine si perde correndo dietro una perfezione che non c'è e non si gode la vita. Per noi nella nostra vita Venere in Vergine vuole dire che le relazioni con gli altri diventano un po' più tesi visto che non potremmo fare meno di osservare quello che non va e che deve essere sistemato. E la gente generalmente parlando non gli piace essere corretta e messa a posto, specialmente quando non richiesto. Dopo un'ora abbiamo il secondo avvenimento quando alle 12.04 ore locali è tempo di Mercurio, il leone, di avere una festa con Giove in Sagittario. Mercurio è come noi comunichiamo con la gente, Giove è come diamo un senso alla vita. Sia Mercurio e Giove sono segni di fuoco e di passione, di entusiasmo e di ispirazione ce n'è tanta. Immaginate Mercurio che dà a Giove un megafono e chiede a Giove di dire quello che ha da dire. E Giove, di cose da dire, ne ha tanti visti che è uscito da poco dal suo cammino indietro uno zodiago. Il 21 di agosto 2019 ci sarà tanta voglia di comunicare e molte cose finiranno per essere esagerati, anche se fatte in fin di bene. Nel frattempo avremo un nostro appuntamento mensile della Luna che incontra Urano un toro. Questo è il nostro piccolo ricordo della storia di Urano un toro, un episodio, un piccolo episodio in più. Osservate cosa succede. Per il 21 di agosto sarà una giornata piena di entusiasmo, con molti che si sentiranno di voler dire la loro propria verità a tutto il mondo e lo diranno con molto talento, che può risultare anche un po' troppo. Ci salverà, diciamo così, un po' quella venere in Vergine che in quel giorno avrà tanto da criticare. Il 23 di agosto 2019, alle 12.01, anche il Sole entra nella casa della Vergine. E questo vuol dire tanti auguri di buon compleanno, Vergine. Il Sole è il nostro sguardo sulla vita. Con il Sole che si sposta in un segno di Terra, aiuta a diminuire un po' i toni del fuoco e dirigerlo verso utilizzi un po' più pratici. Ora abbiamo tre pianeti in Vergine. Il Sole, Venere e Marte. Rimane solo Mercurio, il Leone. Siamo entrati nel pieno della parte del mese dove abbiamo più voglia di sistemare le cose più che fare Baldoria. Nella prima parte del mese abbiamo sentito dove erano questi passioni nuovi e vecchi nella nostra vita. Ora ha tempo di tirarci sulle maniche e mandare avanti la baracca. Questo nuovo piano verrà ulteriormente definito da Venere e Marte in Vergine che si incontrano per mettersi d'accordo come procedere. La riunione, ben programmata e organizzata, sarà tenuta il 24 di agosto 2019 alle 19.04 ore locali. Immaginate questi due. Venere, con il suo taccuino fatto di materiale che rispetta il creato e con una penna stilografica di altri tempi che sosseggia una spremuta di frutta e verdura rigorosamente bio. Marte che si presenta con i suoi attrezzi perfettamente puliti e in un perfetto ordine pronto per risolvere i problemi. Questo incontro è top secret perché sia Venere e Marte sono molto vicini al Sole e non si possono vedere per cui noi non possiamo sapere cosa esattamente sta succedendo o stanno facendo. Quello che sappiamo sicuramente è che Venere è fresca dal suo incontro con il cuore del Sole sussurrerà a Marte l'informazione segreta che il Sole ha condiviso con lei. Marte avrà tempo di pensarci su finché non sarà il suo di turno di incontrare il cuore del Sole il 2 di settembre 2019. Osservate chi incontrate in questo periodo. Possono eventualmente diventare una parte importante in qualcosa che state seminando ora. Per cui, recapitulando. Una settimana che continua il cambiamento dall'esuberanza del fuoco a un'energia di terra più pragmatica e meticolosa. Anche questa settimana ci sono nuovi mizi ma sono coperti dal mistero eppure sappiamo che siamo in una buona strada anche se il tragitto non è ben chiaro per ora. Però, nel frattempo, ci stiamo preparando e mettiamo in ordine i nostri attrezzi così possiamo essere preparati per quello che troveremo per strada. Se avete bisogno di consiglio come navigare queste energie sono disponibile per delle consulenze private. E mi raccomando, prima di andare via ricordatevi di dirmi cosa ne pensate lasciate dei commenti, pollice in su condividete e sottoscrivete alla pagina. A presto e buona fortuna! Grazie a tutti!